Le pretese economiche si aggiravano intorno ai 500 euro al mese, tra le vittime, due ambulanti del mercato rionale e il titolare di un distributore di carburanti. Controllavano un giro di estorsioni attraverso l'uso della violenza e delle intimidazioni le quattro persone arrestate questa mattina dalla polizia, considerate vicine al clan mafioso dei Moretti Pellegrino Lanza della società foggiana. Si tratta di Moreno Laviano, 40 anni, Andrea Carella, 27 anni, Fabio Bernardo, 32 anni e Alessandro Marasco, 39 anni. Numerose le richieste estorsive documentate dagli investigatori avanzate nei confronti dei commercianti locali. Le indagini seguono il filone investigativo avviato nella prima metà del 2022, quando vennero emessi i decreti di fermo nei confronti dei due responsabili dell'attentato di Namitardo al ristorante Poseidon di Foggia e dei tre affiliati al clan che avrebbero chiesto un pizzo di 2.500 euro ad un piccolo imprenditore foggiano, bersaglio anche di minacce e colpi di pistola contro la sua abitazione.